E' già partito il conto alla rovescia per l'avvio della nuova stagione del Pescara. Il 10 luglio, dopo le rituali visite mediche, vecchie e nuovi biancazzurri si raduneranno infatti al Delfino Training Center di Marina di Città Sant'Angelo per iniziare a sudare agli ordini del neo allenatore Galetauno Auteri, che nei prossimi giorni sarà presentato al pari del direttore sportivo Luca Matteassi. Da poche ore c'è stato il via ufficiale al calciomercato, tante le voci come da tradizione che riguardano il Delfino, sia in entrata che in uscita. Fra i giocatori più richiesti c'è il terzino romano Edoardo Masciangelo, che piace all'Ascoli ma anche all'estero. Il Pescara è disposto a cedere il laterale di difesa ma a titolo definitivo. Asse caldo con il Monza per l'attacco piace l'attaccante Ettore Gliozzi, classe 95, di proprietà della società Brianzola, che ha in organico anche un altro giocatore finito sul taccuino dei dirigenti abruzzesi. Si tratta del difensore 26enne Stefano Negro. Sempre per la difesa restano caldi anche i nomi di Luigi Carillo, svincolatosi dalla casertana, Stefano Scognamillo, ex Catanzaro ma di proprietà dell'Alessandria, e Giulian Ilianes della Fiorentina. Ma bisognerà soprattutto sfoltire, come da tradizione, con un organico che conta oltre 20 calciatori sotto contratto, alcuni dei quali con ingaggi anche elevati. L'ultima parola sulle uscite sarà però di Gaetano Oteri, che ha già bloccato la partenza che sembrava quasi certa di Mirko Drudi.